Un'interpellanza molto importante perché dati desumibili al 25 di aprile, Fonte, Fondazione Gimbe, vede la nostra regione tra gli ultimi posti per quanto riguarda gli ultraottantenni e le categorie fragili. Ancora 40.000 ultraottantenni da vaccinare rispetto a una popolazione di 117.000. La metà della popolazione tra 70 e 79 anni ancora in attesa. File chilometriche in alcuni luoghi, per esempio al Palacus di Chieti e soprattutto una regione che non programma in modo efficace e soprattutto non controlla, perché in tutto questo abbiamo potuto rilevare da questi dati che c'è nella categoria altro un numero significativo di vaccinazioni che sono avvenute in regione Abruzzo. Ecco perché vogliamo vederci chiaro, sottolineare che con questi dati ci posizioniamo proprio tra le categorie più fragili e quindi quelle che potrebbero essere colpite di più dal virus tra gli ultimi posti in Italia e vogliamo chiedere risposte al Governo regionale di come intende mettere rimedio a questa situazione, come intende programmare in modo più efficace e come intende controllare che non ci siano i cosiddetti salta-fila.